Buonasera, sono sempre preoccupanti i dati relativi alla disoccupazione in Liguria e la provincia d'Imperia e quella messa a peggio di tutte. Lo evidenzia Unione Camere regionale prendendo spunto dalle analisi Istat. Sentiamo. Gli ultimi dati diffusi dall'Istat mostrano un mercato del lavoro in Liguria ancora critico. Nel 2014 gli occupati Liguri risultano 599.000, 4.000 in meno rispetto all'anno precedente, con un tasso di occupazione che si attesta al 60,7%. Il calo ha interessato maggiormente le donne. A livello provinciale Imperia ha registrato 82.000 occupati, il 3,8% in più rispetto al 2013, Savona 108.000, quasi 2% in più, Genova 326.000 in calo dell'1,5%. E infine la Spezia con 84.000 occupati, il 2,3% in meno rispetto al 2013. I disoccupati Liguri crescono però del 10,6%, passando da 66.000 a 73.000 unità. Imperia è la provincia che registra il tasso di disoccupazione più alto, il 13,8%, in aumento di un punto percentuale e mezzo rispetto al 2013. Seguono la Spezia, Genova e Savona, in controtendenza rispetto alle altre province Liguri, che registra un tasso di disoccupazione in calo di quasi un punto percentuale rispetto al 2013. Il tasso di disoccupazione giovanile, vale a dire fra 15 e 24 anni in Liguria, cresce di 3,8 punti percentuali, superando ancora una volta la media nazionale. In questo caso i numeri peggiori si registrano a Genova e ancora una volta a Imperia. L'84,65% degli imperiesi ritiene insufficiente l'impegno dell'amministrazione comunale in settori importanti, quali il porto, la polizia municipale, i lavori pubblici, lo sviluppo del turismo e l'assistenza. E l'86,75% degli imperiesi non voterebbe più per la maggioranza guidata dal sindaco Carlo Capacci. Questi sono i dati che emergono da un'indagine conoscitiva svolta fra la cittadinanza dal movimento civico La Svolta, attraverso banchetti con questionari per le vie centrali del capoluogo. Il movimento ha evidenziato che l'iniziativa è del tutto informale e quindi non ha nessuna pretesa d'ufficialità né di valore scientifico, tanto meno di sondaggio ai sensi di legge. L'indagine sarà ripetuta fra qualche mese, ma certi dati che ne sono emersi non sono di grande conforto per l'amministrazione comunale. Si è parlato del cantiere navale di Sanremo stamani in comune nell'ambito di una riunione incentrata sul futuro del Porto Vecchio. Sullo scalo si attende anche una sentenza da parte del TAR. Sentiamo. Si è appena svolta una riunione sul futuro dei cantieri navali di Sanremo. Se ne parlava da diverso tempo. Assessore Menozzi, un incontro che era stato considerato fondamentale. Allora, oggi abbiamo avuto un incontro interessante perché erano presenti il comandante del Porto, gli uffici regionali dell'Agenzia del Demanio e il funzionario della regione. Abbiamo fatto insieme ai dirigenti del comune che erano presenti il punto della situazione sotto il profilo di fare una foto di quello che è lo Stato di fatto a livello amministrativo e capire quella che è la strada migliore da intraprendere su questo aspetto. Faraldi, lei è consigliere delegato al Porto. Sembra che si vada ad una richiesta di provvedimento di sequestro? Si è valutata una pluralità di iniziative. Adesso dobbiamo ancora confrontarci con gli organi deputati e vedere qual è la strategia migliore da seguire per poter un domani usufruire della zona portuale. La zona del Porto, con un'area così pulita, cosa può cambiare per il Porto Vecchio-Matuzziano? Allora, intanto fa parte di una delle aree strategiche che sono previste in revisione del piano comunale, diciamo, del PUC. In funzione, ovviamente, con il PUC avremo una rivisitazione dell'area in funzione turistica e non più in relazione ad attività quali cantieri che sono in parte in contrasto. Come detto, oggi si è parlato di Porto. Ci sono novità sulla situazione dei baretti? No, la situazione dei baretti per il momento è stabile, stazionaria. Penso che si dovrà valutare nell'ambito del PUC e vedere un attimino cosa si potrà stabilire in seguito. Per il momento non ci sono novità da comunicare. Sono 101 le domande già liquidate per i danni dell'alluvione causati nell'ottobre a Genova, a fronte di 141 richieste per un totale di 336 mila euro. Per quel che riguarda i danni alle auto e le domande liquidate sono 160, a fronte di 782 richieste. I numeri sono emersi dall'analisi dell'osservatorio Famiglie Alluvionate composto da Regione Liguria, Anci e Associazione Consumatori sui dati forniti dal lente di Piazza dei Ferrari. Dopo l'incontro di Roma del 5 dicembre in vista di quello di settembre a Milano in occasione dell'Expo, anche in Liguria sono stati convocati gli stati generali delle donne. La giornata regionale si terrà lunedì prossimo presso la sede della Regione Liguria a portare la voce del ponente Ligure. Sarà la consigliera di parità della provincia di Imperio, Laura Moretti, insieme ad alcune donne che nei propri ambiti professionali e di vita offriranno il loro contributo raccontando la loro esperienza. Le volontarie del Comitato Locale di Imperio della Croce Rossa che svolgono attività nell'ambito dell'area sociale organizzano per intera giornata di domani nei supermercati Ecom, nei viaggi nel sinistro e il COP di Via 25 Aprile di Imperia una colletta alimentare. Gli alimenti raccolti saranno destinati a persone e famiglie bisognose del capoluogo. Un'impresa multimediale che si rivolga alle fasce deboli della popolazione, una tipografia online, un'altra che si occupa di lotta allo spreco alimentare, un'altra ancora che offra servizi di reintrigazione dei giovani anziani, oppure specializzata nell'accoglienza dei diportisti nazionali ed internazionali. O magari un'impresa con competenze sul consumo dell'acqua potabile in ambito domestico. Tutte scegliendo il modello cooperativo. Sono sei progetti imprenditoriali vincitori messi a punto da altrettanti istituti superiori della Liguria nell'ambito del concorso Bella Coppia promosso da Lega Copp Liguria con il patrocinio della Regione e la collaborazione della Camera di Commercio ed Imperia che questa mattina ha ospitato la cerimonia di premiazione. Vediamo. Un progetto qui a Imperia che questa classe ha ideato guardando gli aspetti multimediali, gli aspetti del benessere e delle fasce deboli. Sembra proprio un progetto perfetto per il mondo della cooperazione. Non c'è dubbio. Mette insieme creatività, nuove tecnologie e servizio alla persona. Quindi mi pare un progetto, diciamo così, orientato a innovare una, diciamo così, delle attività in cui la cooperazione è certamente più radicata che è quella dei servizi alla persona. La crisi sembra mordere da tutte le parti però le imprese giovanili crescono e in questo modo invece il mondo della cooperazione aiuta i giovani a ragionare in termini di impresa già dai banchi di scuola. Non c'è dubbio, questo è l'obiettivo del progetto, quello di far crescere la cultura imprenditoriale, ovviamente nel caso nostro in forma cooperativa. Si tratta di un progetto ambizioso che si svolge in tutta la regione ma voglio ricordare che il progetto, diciamo così, è una simulazione di impresa. Però qui a Imperia una delle simulazioni proprio l'anno scorso è già diventata realtà. Quindi siamo passati dalla simulazione alla realtà in qualche modo senza volerlo, nel senso che l'idea era così buona che i ragazzi poi hanno deciso di concretizzarla veramente. Quindi questa mi pare la dimostrazione migliore che il progetto ha forza e può produrre i risultati che ci attendiamo che è quello di costruire posti di lavoro e opportunità per i ragazzi di oggi e del futuro. Per queste edizioni di Bella Coppia è stata un'idea che nasce tra i banchi di scuola, una cooperativa che guarda al multimediale, ma al benessere e alle fasce deboli. È stata denominata Hegel dal nome del filosofo perché ce l'ha presentata la nostra prof di filosofia, grazie alla razzi e vuol dire ho energia, grandi emozioni, legami. Volete soprattutto investire sugli aspetti multimediali e sul benessere? Sì, interessa sia giovani che anziani. Una cooperativa, un'idea di cooperativa che nasce sui banchi di scuola, ma come è nata questa idea fra di voi? È nata perché vogliamo mettere insieme i giovani con gli anziani per far capire qual è la nostra attività del multimediale e quindi l'abbiamo fatta nascere. Nel progetto però si legge che vi concentrate soprattutto sugli aspetti del benessere. Eh sì, perché vogliamo togliere gli stereotipi che hanno le altre persone su persone malate di Alzheimer o disabili e per questo che è sul benessere. per mettere tutti in mezzo, cioè stare tutti uniti. Un problema che anche voi giovani sentite in maniera particolare. Vedete che è un problema che è forte sul territorio. Eh sì, è molto forte sul territorio perché le vedi le altre persone come guardano quelli, diciamo, diversi da noi che non sono diversi perché siamo tutti uguali. Per la cronaca si avvalso della facoltà di non rispondere. Alessio Crocetta è il dipendente del comune di Sanremo indagato per un presunto caso di corruzione. L'inchiesta, coordinata dalla Guardia di Finanza e dalla Procura di Imperia, è venuta all'evidenza martedì e vede coinvolte altre sei persone. Crocetta, interrogato dal pubblico ministero Alessandro Bogliolo, ha preferito per ora rimanere in silenzio. Allarme ieri sera a Diano Marina in una palazzina tra via Cavour e via Genola dove sono stati fatti evacuare gli appartamenti negli ultimi due piani a causa di un problema strutturale al tetto. A dover uscire dalle proprie abitazioni sono stati un anziano che ha momentaneamente trovato sistemazione in una casa di riposo e due persone ospitate da parenti. Sono ora in corso le verifiche dei tecnici e vigili del fuoco per capire il problema e individuare gli interventi necessari e garantire l'agibilità delle due abitazioni. Gli agenti del commissariato di Sanremo con il supporto del reparto prevenzione crimine Liguria hanno denunciato due stranieri che più volte sono entrati in diversi bar consumando senza pagare e minacciando i titolari. Denunciato per spaccio di droga anche un italiano al quale sono stati sequestrati 2.000 euro di dubbia provenienza. I poliziotti hanno poi indagato un altro italiano per detenzione di merce rubata. Il comune di Sanremo in riferimento ai numerosi avvistamenti di processionaria di questi giorni da ricondursi ai primi caldi fase in cui le larve abbandonano i nidi precisa che i giardinieri comunali da oltre due mesi sono all'opera contro la processionaria dei pini procedendo sistematicamente la rimozione dei singoli nidi in modo manuale e molto accurato. Non vengono usati prodotti chimici che sarebbero dannosi alla salute e alle api sono stati così rimossi oltre 400 nidi dei temibili bruchi. Noi ci fermiamo qualche istante a tra poco. Noi ci fermiamo grazie. 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 Roberto Calvi. Un'inaugurazione potremmo dire col fiocco e anche con tanto di Miss per presentare questo nuovo salone una nuova versione del salone dedicato a Kia. Sì esclusivamente a Kia Motors Italia perché noi abbiamo voluto essere concessionari unici per la provincia d'Imperia abbiamo ospiti tutti i nostri clienti nonché lo staff intero o comunque in buona parte di Kia Motors Italia ne approfitteremo per scoprire in antepriva nazionale la nuova Kia Rio che è la vettura di segmento B che verrà appunto inaugurata a livello nazionale la settimana prossima. Giorgio Speziali di Kia Italia ecco Kia non è soltanto la nuova Rio che viene presentata in anteprima nazionale ma anche il SUV anche il Sorrento insomma una vasta gamma di scelta. A dire di sì in assoluto il Sorrento che è proprio questa vettura qua alle mie spalle è l'ultimo lancio di casa Kia lanciato sul mercato non più tardi di un mese e mezzo fa con una serie di eventi che hanno portato a conoscere e a diffondere questo prodotto a livello nazionale prodotto prodotto all'avanguardia che non ha nulla a che vedere con il vecchio Sorrento del quale peraltro però ci ospichiamo specialmente della prima serie possa ripercorrere lo stesso successo. E Imperia è il matrimonio di Kia con Calvi Auto prima di tutto? Calvi Auto è un'azienda assolutamente leader sul territorio Ligure un'azienda che opera da vent'anni con altri brand ma che oggi si dedica completamente al marchio Kia di cui siamo orgogliosi di aver lanciato recentemente sul nostro network. Non una ma addirittura due miss in questo salone Camilla Mancuso Miss Kia e Beatrice Bertolino Miss Miluna giusto? Ecco allora andiamo un po' con ordine cominciamo da Miss Kia che mi sembri giovanissima ma Guidi hai già la patente? Sì sì tutti i miss cambiano per sedici anni però ho quasi vent'anni sì sì no perché insomma essere Miss Kia poi magari non avere una patente sarebbe un po' il colpo no? però la patente sì 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 hai già scelto una macchina che ti piace qui oggi? quella bianca anche il nuovo Sorrento quindi Miss Kia è tipo da SUV Miss Miluna invece? io non so se posso dire ma la patente non ce l'ho ancora è proprio una vergogna e la macchina non lo so ne vedo una lì coperta chissà cosa c'è sotto sorpresa quindi si è attirata più dalle cose curiose quelle un po' nascoste esatto esatto sì e come siete diventati Miss allora questo cammino questa avventura? è stata un'avventura fantastica con piena di esperienze poi comunque ci siamo conosciute quindi sono andate amicizie e tutto abbiamo avuto la possibilità di prendere delle fasce nazionali quindi siamo andati comunque su Aiesolo abbiamo fatto anche lì altre esperienze faticose non e adesso siamo qua siamo qua tra l'altro eravamo compagni di stanza anche quindi ci siamo proprio ritrovate assolutamente sì allora non è vero che insomma siete amiche solo sulla passarella poi vi strappate i cappelli vabbè in alcuni casi può succedere anche però non è il nostro caso no no siamo tutte amiche cioè tutte amiche virgola via però voi due sì esatto io sì e allora va bene così insieme esatto non vi siete nemmeno picchiate benissimo meglio così allora divertitevi beh sei fortunata hai l'amica che ha la patente quindi guida lei buon viaggio in tutti i sensi a tutte e due grazie grazie ciao vi hanno preso il via oggi ad Andorra le prime prove della regata nazionale classe laser organizzata dal circolo velico andorese e dal club del mare di Diano Marina alto il numero delle adesioni vediamo torna ad Andorra dopo anni di assenza la prima Italia Cup Laser che è una regata di vela di giovani si chiama proprio laser perché è una classe olimpica laser quindi di giovani che porterà ad Andorra oltre 300 velisti e 200 accompagnatori organizzato dal circolo nautico Andorra dal club di Diano Marina e patrocinata dal nostro comune un evento di grande richiamo turistico che le associazioni albergatori commercianti e bagni marini non si sono fatti sfuggire perché tutti insieme hanno organizzato dei pacchetti non solo per dormire ma anche per mangiare e delle scontistiche sulle attività commerciali questo è un momento importante anche per il lancio del nostro porto turistico qui ad Andorra stiamo lavorando per realizzare proprio nel porto un solarium che quest'estate ospiterà 120 lettini e 60 ombrelloni quindi questo è un modo nuovo per rilanciare il porto di Andorra questa edizione di Italia Cup è la prima regata nazionale di questa classe e apre praticamente la stagione velica italiana non solo ma ci sono anche equipaggi stranieri che partecipano perché è una regata open abbiamo indicativamente 340 iscritti di tre categorie della classe laser che si daranno battaglia nelle nostre ac in questi tre giorni che ci auguriamo siano di auspicio di buon vento ecco finalmente siamo riusciti a mettere insieme questa manifestazione nonostante le grandi difficoltà iniziali perché questa regata è una regata importantissima di una classe olimpica molto importante in Italia con più di 1200 praticanti la flotta più grande di Europa noi abbiamo organizzato da sempre questa regata nelle acque di Diana Marina quest'anno è risultato impossibile per diciamo ragioni logistiche nel senso che non tutti gli amministratori hanno la sensibilità necessaria per questo sport che nonostante tutto rappresenta la caratteristica principale del territorio che è il mare e quindi siamo rimasti diciamo piuttosto delusi da questa situazione per fortuna siccome questo si può definire come un rapporto di amicizia tra tutti i circoli che fanno questo tipo di attività perché le difficoltà naturalmente ci sono per tutti siamo stati costretti a muovere questa manifestazione così importante con la presenza di 350 barche nel vicinissimo comune di Andorra nel quale abbiamo col quale abbiamo ottimi rapporti che ha patrocinato la manifestazione attraverso il circolo velico di Andorra e quindi ci auguriamo che tutto vada per il meglio in questi tre giorni nei quali l'unico problema sarà effettivamente avere il vento necessario per poter regattare il circolo nautico insieme alle altre associazioni che operano qui nel porto sono sempre promotori di iniziative molto interessanti nell'arco dell'anno loro svolgono più di una regata questa è una regata di calendario italiano e raccoglieremo circa 350 atleti che arriveranno da tutta Italia e per noi è un onore sempre dare per noi come Ama quindi azienda che gestisce questo porto dare la massima collaborazione al circolo nautico come anche alle altre associazioni per ogni evento che loro intendono organizzare perché per noi vuol dire fare turismo e quindi creare una sinergia tra quello che sono le associazioni e quello che è l'ufficio turismo nel comune e mettere noi da nostra parte a disposizione gli spazi gli ormeggi tutte le aree portuali e quant'altro per far sì che queste manifestazioni si possano svolgere al meglio e siamo orgogliosi che proprio la Laser Cup Italia ha scelto il porto di Andorra per questa importante regata come ogni anno ritorno all'appuntamento con non ti scordar di me operazione scuole pulite la campagna delle gambienze dedicata alla qualità e alla vivibilità degli edifici scolastici rivolta a tutte le scuole di ogni ordine e grado diverse alle scuole liguri che hanno aderito al progetto e da levante a ponente e sarà possibile iscriversi fino a domenica 3 maggio presso la portineria dei giardini la settima edizione del concorso fotografico obiettivo Embry 2015 iniziativa aperta a tutti gli appassionati l'iscrizione per le scuole è gratuita la cerimonia di premiazione avrà luogo domenica 7 giugno nella sala dei cammini del palazzo in occasione della giornata mondiale dell'ambiente e dopo il grande successo ottenuto nel museo del mare di Genova la mostra fotografica dell'imperiesi Adolfo Ranise dal titolo sotto il vento e le vele approda la spezia dove sarà esposta da domani fino al 30 aprile nel museo navale della marina militare la mostra composta da 30 pannelli presenta alcuni degli scatti di Ranise premiati in concorsi nazionali ed internazionali la mostra di Adolfo Ranise una volta terminata la sua permanenza alla spezia varcherà l'oceano alla volta dell'argentina a Buenos Aires dove verrà esposta nella Galleria d'Arte Municipale Almirante Brown entro il 2015 e torna con il terzo appuntamento domenicale il caffè con l'artista alle 16 di domenica prossima al Biribisi del Casinò di Sanremo l'incontro con il direttore e solista precederà il concerto Giovani Interpreti previsto alle 17 presso il Teatro dell'Opera del Casinò il concerto vedrà protagonisti due giovani musicisti il direttore d'orchestra Luca Bizzozzero già apprezzato nelle scorse stagioni dell'orchestra e il violoncellista Lionel Cotter bene ora ci occupiamo come sempre dei cantieri sull'autostrada dei Fiori per questo fine settimana poi vedremo insieme il quadro meteo questi cantieri che situazioni particolari potrebbero creare rallentamenti al traffico sul tratto della 10 Savona a confine di Stato da lunedì 9 a domenica 15 marzo in direzione Francia careggiata a nord tra Imperio Ovest e Darmatitaggia careggiata a doppio senso per lavori sulla careggiata opposta da lunedì a domenica anche notturno tra Bordighiera e Ventimiglia cambio di careggiata per rifascimento Dreno Centrale Galleria Progio da lunedì a domenica anche notturno in direzione Genova careggiata a sud tra Ventimiglia e Bordighiera careggiata a doppio senso per lavori sulla careggiata opposta da lunedì a domenica anche notturno tra Arma di Taggio ed Imperio Ovest cambio di careggiata per adeguamento sismico del viadotto Prino da lunedì a domenica anche notturno nell'ambito dei lavori programmati per l'adeguamento sismico del viadotto Prino via Italia resta chiusa la rampa di uscita dello svincolo di Imperio Ovest per i veicoli provenienti da Ventimiglia fino alle 18 di mercoledì primo aprile salvo posticipi delle lavorazioni a causa del maltempo o anticipato termine dei lavori vediamo allora il quadrometrio di Arpal Meteo Liguria con le previsioni di domani sabato 14 marzo giornata in prevalenza molto nuvolosa con qualche temporanea schiarita nelle ore centrali possibili deboli piovaschi sparsi più organizzati dalla serata umidità su valori medio-alti venti deboli in prevalenza settentrionale rinforzo sino a moderati nel pomeriggio il mare sarà mosso in calo nel pomeriggio sulla parte centrale della regione dopo domani domenica 15 marzo piogge diffuse e persistenti più intense sul centro ponente dove le accumulate potrebbero risultare localmente elevate temperature sensibile calo nel corso della giornata con quota neve sui 700-900 metri localmente più bassa sui versanti padani occidentali umidità su valori alti venti settentrionale rinforzo sino a forti o di borrasca 50-70 km orari mare in deciso aumento fino a molto mosso localmente agitato sul centro della regione la protezione civile segnala precipitazioni diffusi con cumulate fino ad elevate bassa probabilità di rovescio temporali forti mare localmente agitato sotto costa apponente bene noi ci fermiamo qui l'appuntamento come sempre alle prossime edizioni grazie per essere stati con noi buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti